La salute pubblica prima di tutto. Dopo una lunga riunione di giunta, questa mattina è arrivata la decisione del Comune di Fano che vi abbiamo annunciato con un video in diretta Facebook al termine del confronto tra gli assessori avvenuto in via telematica. A causa della crescita della curva dei contagi, la fiera di San Bartolomeo è stata annullata a pochi giorni dall'inizio dell'evento che era in programma per il 24, 25 e 26 agosto. All'iniziativa avrebbero partecipato oltre 250 ambulanti provenienti da tutta Italia. Agli inizi d'agosto avevamo deciso di andare avanti con la fiera di San Bartolomeo per tutelare tutte quelle persone che lavorano in questo indotto. Purtroppo gli ultimi dati portano ad un crescente, ad un aumento dei contagi soprattutto derivato dalle persone che arrivano. Ci rendiamo conto che la nostra città in questo momento è veramente piena dei turisti e dell'impossibilità di garantire un corretto controllo, di garantire la salute a tutte le persone che arriveranno in questa fiera. Quindi stamattina ci siamo riuniti in giunta, valutato tutte le possibilità e quindi alla fine abbiamo deciso di annullare la fiera di San Bartolomeo. Non è stata una decisione presa alla leggera, spiegano gli assessori. Ci rendiamo conto del disagio che si andrà a creare nel settore del commercio ambulante, già colpito duramente dal punto di vista economico a causa della pandemia. L'annullamento della fiera è arrivato dopo un confronto con le istituzioni regionali, la prefettura, l'ASUR, le associazioni di categoria e altri comuni limitrofi. L'amministrazione comunale ha anche annunciato un giro di vite al mercato settimanale con l'aumento dei controlli sul rispetto delle regole e sanzioni per i trasgressori. Non riusciamo a contingentare le presenze, non riusciamo a controllare gli accessi perché per sua natura la fiera ha tanti accessi anche dalle vie laterali che era impossibile controllare nonostante l'impegno che avevamo già previsto di volontari e di polizia locale. Dunque abbiamo deciso di sospenderla, l'abbiamo fatto alla luce dei dati ASUR che ci arrivano in questi giorni e quindi abbiamo pensato di tutelare la salute dei nostri concittadini attraverso questa decisione pensando che comunque a settembre le scuole dovranno riniziare perché è fondamentale che riniziano per sollevare anche la mancanza di insegnamento negli ultimi mesi dell'anno scolastico passato e quindi abbiamo deciso di prendere questa decisione, l'abbiamo presa insieme in giunta con un confronto tecnico e poi sarà firmata una ordinanza da parte del vice sindaco in quanto in questi giorni me la prenderò io questa responsabilità però ecco diciamo l'abbiamo fatta cercando di ponderare tutte le necessità e soprattutto pensando all'assoluto dei nostri concittadini.